buonasera amiche buonasera amici mi chiamo marcello secco faccio questi video perché sono appassionato di moto se anche tu come me lo sai iscriviti al canale attiva la campanella in modo da essere sempre aggiornata aggiornato perché pubblico un video al giorno oggi voglio parlarvi di moto guzzi california 1100 evi dell'anno 2000 quindi facciamo un passo indietro anzitutto vediamo la moto in questa bella immagine e dicevo facciamo un passo indietro proprio perché a partire dalla v7 degli anni 70 che costituiva naturalmente un'ottima base moto guzzi sul sollecito dell'importatore americano e partecipò alla gara per la fornitura di motocicli per il dipartimento di pulizia di los angeles il mitico l eip di los angeles police department che scelse proprio la moto guzzi preferendola alle concorrenti il prototipo per la prova fu definito anche grazie all'indicazione del sergente della polizia che è stato era stato inviato per la supervisione alla realizzazione del prototipo era venuto proprio qui a mandello soggiornava nei pressi di mandello e ha dato naturalmente le indicazioni necessarie per presentarsi con un prototipo che potesse vincere la gara quindi questo modello della moto guzzi entra in produzione nel 2000 in particolare questo che vediamo nella foto e vi rimane fino al 2002 si può in questo caso definire la moto come una custom anche per la protezione l'assenza della protezione aerodinamica ma vediamo il motore che è il classico bicilindrico avuto i 90 gradi raffreddato ad aria a quattro tempi con una cilindrata di 1064 centimetri cubici la potenza è di 74 cavalli 6400 giri al minuto la coppia massima di 54 scusate 94 newton metro a 5000 giri al minuto all'anteriore la sospensione formata da una forcella telescopica idraulica da 45 millimetri con escursione di 130 millimetri della ruota il freno a doppio disco del vediamo qui nell'immagine di generose dimensioni da 320 millimetri la sella alta 736 millimetri quindi abbastanza bassa da terra la trasmissione è notoriamente nelle guzzi ad albero cardanico quindi limita naturalmente la manutenzione rispetto alla catena posteriore invece al posteriore abbiamo una coppia di ammortizzatori con escursione delle ruote di 89 mm il freno posteriore a disco da 282 mm le ruote sono rispettivamente a 18 pollici l'anteriore 17 al posteriore serbatoio vedete qui bello questa forma a goccia da 19 litri un peso secco della moto di 251 kg completano il quadro di una moto senz'altro interessante anche come acquisto di una moto usata bella la linea insomma una linea che poi definirei anche senza tempo bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto dislike iscrivetevi al canale attivate la campanella per essere sempre aggiornati qui sotto i vostri compi commenti sempre graditi ciao e buona serata